Più eclettica e variabile è la connessione immaginazione e azione nei narra... Negli anni 90, i quali ricordano la percettività mentale come a... ...a un fattore di alterazione, rifletto agli argomenti della narrazione... ...suscitando la presenza di una sorta di relato... ...dei fatti che si succedono a partire da alcune suggestioni estelle... Oh, vuoi rispondere a... ... 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